Il secondo set della serata, intanto ricordo a quelli che magari prima non erano presenti che abbiamo il banchetto di Tella Blues River vicino al bar dove potete fare la tessera per il 2022 e quindi sostenere l'associazione Passiamo quindi a presentare il prossimo set Fabio Marzaroli e la sua band Fabio, la prima volta che si è esibito qui con noi è stato qualche anno fa, non ricordo esattamente quanto tempo fa e devo dire che ha avuto una crescita clamorosa cioè veramente c'è stato un salto di qualità negli ultimi anni che ha potuto fare anche insieme alla propria band che stasera ascolterete hanno l'attivo ben 5 dischi e si sente in questa crescita anche il fatto che Fabio per esempio ha accompagnato molti artisti internazionali ha aperto concerti di rilievo tipo Robin Ford tanto che si perde ne una, quindi non cosette ma soprattutto appunto hanno avuto modo di sviluppare il loro talento, la loro capacità in maniera veramente eccellente e quindi è un piacere per noi stasera riproporli per i Tella Blues River Fabio Marzaroli e la Fabio Marza Band un applausone Fabio Marzaroli e la Fabio Marzaroli e la Fabio Marzaroli Fabio Marzaroli e la Fabio Marzaroli e la Fabio Marzaroli Fabio Marzaroli e la 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 Fabio Marzaroli Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.